Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione. Resta alta l'attenzione nei confronti della nuova Tangentopoli, l'inchiesta lagunare che ieri ha visto l'arresto di 35 persone, un terremoto che ha scosso e destabilizzato l'intero territorio, 25 milioni di euro i fondi neri ricavati da false fatturazioni, ma anche tangenti, finanziamento illecito ai partiti, ancora divulgazione di segreti d'ufficio. Insomma, un gran caos che pesa sulle tasche dei cittadini. Domani intanto cominceranno i primi interrogatori. Sentiamo la situazione. Venerdì 6 giugno inizieranno gli interrogatori di garanzia delle persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta sulle tangenti per il Mose. L'operazione, eseguita dalla Guardia di Finanza di Venezia e coordinata dalla Procura Lagunare, ha creato un terremoto giudiziario che ha fatto emergere un panorama corrotto e ha portato in carcere 35 persone. I primi ad essere ascoltati dovrebbero essere Giorgio Orsoni e altri quattro indagati. Questi interrogatori saranno effettuati nell'aula bunker di Mestre dal GIP Alberto Scaramuzza. Sarà invece ascoltato a Pisa Renato Chisso, dove è stato portato per la detenzione in carcere. Interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma per Vittorio Giuseppone, il magistrato della Corte dei Conti, che secondo l'accusa avrebbe percepito uno stipendio di 300-400 mila euro l'anno per ammorbidire i controlli. E sull'inchiesta veneziana oggi ha parlato da Bruxelles anche il presidente Renzi, di fronte alle vicende del Mose dice ci sono i principi costituzionali che ciascuno ribadisce, piena fiducia nel lavoro della magistratura e presunzione di non colpevolezza fino a sentenza a cui speriamo si possa arrivare il più velocemente possibile, come da paese civile. Dunque questo il commento della Premier e adesso invece parliamo ancora degli arrestati, perché il primo a dover essere ascoltato negli interrogatori di domani dovrebbe essere proprio Giorgio Orsoni, che oggi è stato sollevato dall'incarico di sindaco della città di Venezia. Allora ascoltiamo la sua posizione. Il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sul Mose, è stato sospeso dall'incarico di primo cittadino. A deciderlo il prefetto Domenico Cuttaia in base alla cosiddetta legge Severino, da applicare nei confronti degli amministratori locali destinatari di misure coercitive in base ad alcuni articoli del codice di procedura penale. L'accusa nei confronti di Orsoni è finanziamento illecito ai partiti. Nelle ore seguenti all'ordinanza, l'amministrazione ha tenuto una conferenza stampa, nella quale è stato spiegato che il lavoro del comune lagunare proseguirà senza intoppi. In molti a Caffarsetti faticano ancora a credere in una colpevolezza di Orsoni, ma sarà la magistratura a chiarire ogni aspetto di questa vicenda. Il vice sindaco Simionato, per questo motivo, ha voluto esprimere solidarietà ad Orsoni. E ieri la presidente della regione, Luca Zaia, aveva ritirato anche le deleghe nei confronti di Renato Chisso. Oggi è pur arrivato un telegramma al protocollo della regione, con il quale lo stesso Chisso comunica le sue dimissioni irrevocabili dall'incarico di assessore regionale. E la nuova Tangentopoli Veneta sta pesando anche sulle elezioni, che domenica saranno protagoniste a Padova, nella città del Santo. Gli abitanti si recheranno alle urne per il ballottaggio. In queste ore i due candidati si sono attaccati, come era naturale che accadesse, in questa circostanza provocata dall'inchiesta. Iniziato il conto alla rovescia per l'elezione del sindaco di Padova, ritorno alle urne domenica 8 giugno, dalle ore 7 alle 23. Queste sono le ultime ore per i due candidati che si vedono contrapposti per riuscire a guadagnare qualche punto a favore tra chi resta ancora incerto. Ivorossi e Massimo Bitonci non si stanno risparmiando i commenti sulla vicenda del Mose, mandandosi e rispedendo al mittente attacchi sul coinvolgimento dei partiti. Un'inchiesta che è calata su queste elezioni, dando uno spunto per rilanciarsi accuse. La cosa che preoccupa molti però è che la nuova Tangentopoli possa creare astensionismo tra i cittadini che si sentono ancora una volta traditi dalla politica. L'appello è quello di recarsi alle urne ed esprimere una preferenza. La giunta regionale Veneta che si è riunita oggi sotto la presidenza di Luca Zaia ha proceduto con urgenza alla sostituzione dei dirigenti sospesi d'ufficio e coinvolti nell'inchiesta. Sono stati affidati gli incarichi ad altri dirigenti per evitare l'interruzione lavorativa. La direzione del Dipartimento Riforma Settore Trasporti e della sezione Strade, Autostrade e Concessioni è stata affidata a Mariano Carraro, attuale direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, Sicurezza Urbana, Polizia Locale. La direzione del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale Territoriale della sezione Progetto Venezia è stata conferita ad Alessandro Benassi, attuale direttore del Dipartimento Ambiente della Regione. Il conferimento ha effetto immediato. E adesso parliamo di un altro, cambiamo completamente argomento, ma parliamo di un altro scossone, ma in un settore completamente diverso, ovvero quello del calcio. Questa mattina gli uomini delle fiamme gialle si sono presentati nella sede del calcio Padova. La situazione nel servizio. La Guardia di Finanza, su disposizione della magistratura euganea, ha eseguito una perquisizione nella sede del calcio Padova in Via Nereo Rocco. Uomini del nucleo di polizia tributaria sono andati negli uffici dello stadio, ma non solo. Al centro dell'attenzione è la documentazione relativa alla gestione societaria dal 1 luglio 2013. Da quella data è iniziata la presidenza di Diego Penocchio. Le perquisizioni, oltre che nella sede di Via Rocco, sono state effettuate anche nel Bresciano, nella sede di Iniziative Euganea SRL, società che detiene il 100% del calcio Padova. Al momento il presidente e l'amministratore delegato del calcio Padova, Diego Penocchio e Andrea Valentini, sono indagati in un'inchiesta della magistratura per l'ipotesi di ostacolo alle autorità di vigilanza. Una richiesta di documentazione, secondo quanto si è appreso in ambienti vicino agli inquirenti, è stata inoltrata dalla Guardia di Finanza alla Federcalcio a Roma. Dopo le perquisizioni, il presidente, con un comunicato stampa, si è dichiarato sconcertato per questa iniziativa, poiché si è sempre comportato con la massima trasparenza con gli organi di controllo ed esclude in particolare chi vi siano stati i rapporti tra il calcio Padova e il Parma, in relazione ai quali sia mai stato violato qualche obbligo di comunicazione o di informazione. Parliamo di un gravissimo incidente stradale avvenuto nella notte in provincia di Padova a Conselve. Erano circa le 3 della notte quando lungo via del mare una quarantena alla guida di un autocarro è uscito di strada in corrispondenza della grande rotatoria all'ingresso della zona industriale. Si presume che la conducente abbia perso il controllo del veicolo finendo contro la rotatoria. Il quarantena è stato soccorso ed è stato trasportato al pronto soccorso di Monselice, si trova in gravi condizioni. Treviso, gli uomini dell'arma hanno arrestato nell'isola di Mallorca Franco Cimmino, un latitante di 47 anni. L'uomo era ricercato da diverso tempo per scontare una pena definitiva di 8 anni e 9 mesi di reclusione per reati come riciclaggio di auto rubate, ricettazione, lesioni personali aggravate e anche traffico di droga. Secondo quanto è risultato, nelle indagini Cimmino era il referente in Veneto di un'associazione per delinquere specializzata in furti di auto di grossa cilindrata. A queste auto venivano sostituite targhe e telaio. Una volta adottate di documenti falsi, venivano messe in vendita. Inoltre, nel 2000, il latitante è stato indagato in un traffico di cocaina che ha interessato il Veneto. Denunciato un uomo albanese per tentata, truffa, aggravata e sostituzione di persone. I carabinieri di Venezia hanno sorpreso lo straniero a vendere abusivamente i biglietti a CTV sul pontile del vaporetto di Sant'Oma a Venezia. L'uomo vestiva con abiti analoghi a quelli del personale e vendeva biglietti già utilizzati a prezzi maggiorati. Serve una maggiore attenzione nei confronti dei pedoni al fine di prevenire incidenti stradali. Pensate che in Italia le vittime ogni anno sono circa 600. Allora sentiamo alcuni dati ma anche cosa viene proposto per la prevenzione. Ogni anno sulle strade di tutta Italia perdono la vita circa 600 persone che viaggiano a piedi. Per la maggior parte si tratta di anziani. Dal 2001 al 2012 è stata registrata la morte di 9.190 pedoni, pari al 14,4% del totale della mortalità per incidenti stradali. Tuttavia il numero di pedoni è calato dai 1.032 del 2001 ai 5.64 del 2012. Si tratta per la maggior parte di maschi, anziani, principalmente residenti nel Lazio, nella Lombardia e Toscana. Gli anziani rappresentano dei tassi di mortalità 23 volte superiori ai bambini e 7 volte superiore alle persone con età compresa tra i 15 e i 54 anni. Lo ha precisato Marco Giustini del Dipartimento di Ambiente e Prevenzione Primaria dell'Istituto Superiore di Sanità durante la presentazione della campagna Siamo Tutti Pedoni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima in oltre 400.000 il numero di pedoni feriti ogni anno nel mondo con una tendenza in aumento in vista del 2020, in particolare nei paesi che stanno attraversando una fase rapida di motorizzazione. A fronte di ciò il rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha esortato alla necessità di aumentare le aree pedonali, di migliorare i sistemi di illuminazione e la progettazione delle parti anteriori delle automobili per minimizzare le conseguenze ai pedoni investiti e soprattutto per creare una sempre più intensa cultura della sicurezza stradale. Venezia, a seguito di una serie di truffe alle assicurazioni per un totale di un centinaio di migliaia di euro provenienti da finti incidenti stradali, i carabinieri hanno effettuato una trentina di perquisizioni nei confronti di un'organizzazione criminale specializzata in truffe. Il procedimento prevedeva il coinvolgimento di mezzi di trasporto pubblico dove salivano passeggeri che appartenevano a quest'organizzazione. Dopo l'incidente questi fingevano malori e ricorrevano alle cure mediche che si svolgevano in strutture sanitarie che attestavano prestazioni di fisioterapia in realtà mai fatte. A Vigonza, nella Padovano, sabato 7, iniziativa nei confronti dell'ambiente coinvolti i bambini di una scuola. Sentiamo di cosa si tratta. Promuovere l'adozione di buone pratiche e comportamenti corretti nei confronti dell'ambiente. Questo è l'obiettivo di un percorso didattico che hanno affrontato durante l'anno scolastico le classi quarte della scuola primaria ruzzante di Vigonza, nel Padovano. Sabato 7 giugno, dalle 16 alle 19, gli alunni metteranno in pratica quanto appreso con una passeggiata ecologica nel territorio. Bambini, genitori e insegnanti raccoglieranno insieme i rifiuti che troveranno lungo le strade dei quartieri Alzavola e Tre Spigoli. Forse sarà una pratica faticosa, ma insegnerà ai bambini i danni che possono creare i piccoli gesti di inciviltà. Una fatica utile che spero aiuti i bambini e le loro famiglie a riflettere su quanto sia importante rispettare le regole di vita civili che ci permettono di vivere in un ambiente pulito e decoroso. Il commento è arrivato dal sindaco di Vigonza, Nunzio Tacchetto. Stefano Svegliado, presidente del Consiglio di Etra, ha inoltre spiegato, anche Etra ha aderito all'iniziativa. Forniremo gli strumenti e i materiali necessari ai bambini e agli accompagnatori per lavorare in tutta sicurezza e provvederemo a ritirare e differenziare i rifiuti raccolti in modo che non comportino rischi o problemi per nessuno. I sacchi raccolti saranno portati dietro alla barchessa del parco del castello dei Daperaga dove verranno raccolti dagli operatori e dai mezzi di Etra. A Padova questa mattina un blackout ha interessato l'ospedale nella zona di via Giustiniani. Il blackout è avvenuto verso le 11 e è durato alcuni minuti. Fortunatamente non ci sono stati problemi e conseguenze nemmeno nelle stalle operatorie perché sono immediatamente entrati in funzione i generatori, quindi non c'è stata nessuna conseguenza. I motivi del guasto della rete elettrica sono ancora sconosciuti. Ad incassare la Tasi sulla prima casa entro il prossimo 16 giugno saranno prevalentemente i sindaci del Nord. Lo rileva la CGA di Mestre sottolineando che le amministrazioni comunali più zelanti nell'applicazione della delibera sulla Tasi pubblicata entro il 31 maggio sul sito del Dipartimento delle Finanze sono quelle della Valle d'Aosta su un totale di 74 comuni presenti in regione. 68 hanno deliberato l'aliquota Tasi entro la scadenza stabilita per legge. Seguono l'Emilia Romagna con 218 comuni su 3,40 e il Trentino con 146 comuni su 3,33. Appena fuori dal podio troviamo Veneto, Toscana e Lombardia. Uno sguardo al meteo, le previsioni, ondate di calore con l'anticiclone africano che invaderà la parte nord dell'Italia, anche se ci saranno, non sono esclusi, forti temporali soprattutto in Piemonte, Alpi, Prealpi e Lombardia. Le zone più calde però saranno Emilia Romagna e Veneto dove verranno registrati nel prossimo weekend picchi oltre i 33 gradi. Torneremo sull'argomento del tempo anche con un approfondimento nell'edizione di domani. Nel frattempo vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona serata. Nel frattempo.